Mentre società come Modena e Rimini sono in enormi difficoltà per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, dalla Rizzo fanno sapere che è tutto a posto. È stata completata infatti regolarmente l'iscrizione al prossimo campionato, lo annuncia direttamente Andrea Riccioli, direttore generale a Maranto. Abbiamo presentato tutti i documenti in regola, dice Riccioli, compresa la fideiussione, così come previsto dalle normative federali. Può sembrare un dato scontato, ma se ci guardiamo attorno vediamo che a queste scadenze non poche società arrivano con il fiato corto e spesso addirittura in ritardo, con conseguenze per la stagione che sta per iniziare. Voglio quindi ringraziare pubblicamente il presidente Ferretti che una volta di più ha fatto fronte alle necessità, sia in termini di esborsi che di garanzie fideiussiorie, garantendo un futuro certo al calcio retino. È stato un impegno importante che conferma il forte legame che Maro Ferretti ha con questa società e con questa città e dello spirito con il quale ha intrapreso la nuova stagione. Adesso allo staff dirigenziale, conclude Riccioli, e anche a quello tecnico, spetterà il compito di costruire una società e una squadra all'altezza delle ambizioni del presidente della piazza e il nostro impegno, in questo senso, sarà assoluto.